E allora bentornati, bentornati in diretta al mio medico, la sana alimentazione, la salute parte dalla tavola anche e soprattutto da anziani. Bisogna fare attenzione perché gli anziani, lo sappiamo, mangiano meno, mangiano poco e male. Quali rischi si va incontro? Di questo parleremo a professor Paolo Orlandoni, responsabile della nutrizione geriatrica all'ospedale Sestilli di Ancona. Cercheremo di capire quali sono i rischi e come cambiare anche l'alimentazione per evitare la malnutrizione. Allora, professore, innanzitutto facciamo una differenza tra nutrizione e alimentazione, che è una differenza sostanziale. Qual è la differenza? È molto importante capire bene i termini perché spesso anche nei media viene utilizzato il termine in maniera... Come sinonimi, no? Come sinonimi in realtà hanno due significati diversi. L'alimentazione riguarda appunto gli alimenti, i cibi, mentre la nutrizione si occupa di capire se i nutrienti contenuti nei vari cibi sono assorbiti e utilizzati dall'organismo per tutte le funzioni che l'organismo deve svolgere per la vita. Quindi la nutrizione utilizza gli alimenti ma può utilizzare anche altre sostanze per completare i bisogni nutrizionali dell'organismo nelle varie fasi della vita o nelle varie fasi anche di malattia. Perché ho detto soprattutto le persone anziane mangiano poco e male, devono cambiare un po' anche la loro alimentazione. Allora, ma come facciamo ad accorgerci che magari abbiamo i sintomi della malnutrizione? Quali sono i primi sintomi a cui dobbiamo fare attenzione? Oppure noi come parenti, come familiari, se stiamo vicino alla persona anziana? Diciamo che mentre il bambino salta un pasto, la mamma subito si preoccupa e chiama il pediatra, oddio mio figlio non ha mangiato, l'anziano invece è più trascurato, anche se non mangia si dice va bene, cioè non gli si dà molta importanza lui stesso ma anche chi vive con il soggetto anziano. Mentre invece è importante la nutrizione sia nel bambino che deve crescere ma anche nell'anziano perché le modificazioni, soprattutto a livello metabolico dell'anziano, fanno sì che sia alto il rischio di malnutrizione. Quindi una riduzione dell'introito alimentare, dell'appetito, cause che derivano anche dal difetto di dentizione, quindi la masticazione più difficile. Con l'avanzare dell'età si possono avere anche problemi di deglutizione, per cui il paziente rifiuta certi tipi di cibi proprio perché fa una certa fatica a deglutire, ma poi i problemi sociali, quindi l'isolamento dell'anziano, problemi economici, per cui magari preferisce cibi più a buon mercato piuttosto che cibi ricchi di nutrienti. Professore abbiamo letto nel cartello anche questa debolezza muscolare e anche la stanchezza. Quando l'anziano si sente stanco può essere un primo sintomo di malnutrizione? Sì, diciamo che una delle caratteristiche dell'invecchiamento è quella della progressiva perdita di muscolo, di massa muscolare, quella che in termini tecnici si chiama sarcopenia. In realtà è una perdita graduale sia di massa muscolare ma anche di forza muscolare e questa può derivare sia dai processi normali dell'invecchiamento ma anche dalle malattie. E quindi un peggioramento di questa situazione si caratterizza appunto con una debolezza dell'anziano che spesso poi tende a non muoversi. Che cosa si rischia? Quali sono i rischi a cui gli anziani possono andare incontro? Diciamo che l'apparato scheletrico è importante appunto per il movimento e il movimento ormai è riconosciuto essere una vera e propria medicina per prevenire ma anche per rallentare gli effetti negativi di patologie croniche tipo il diabete, malattie cardiache eccetera. Proprio perché anche i muscoli sono quelli che sottendono alle funzioni sia respiratorie che cardiologiche. Quindi mantenere una buona massa muscolare sia in termini di movimento ma anche di funzionamento degli organi è importante proprio per prevenire o ritardare gli effetti negativi delle malattie croniche dell'anziano. Quindi potenziare quello che è l'introduzione di proteine che sono alla base della sintesi di muscolo sia del muscolo scheletrico ma anche dei muscoli respiratori o di altri organi è una delle cure principali, delle attenzioni principali che il paziente ma anche il medico deve tener conto nel garantire per poter assicurare un buon invecchiamento. Quali sono le cause che portano alla malnutrizione, insomma i fattori di rischio? Ci sono dei fattori a parte l'età di cui abbiamo già detto e sottolineato, insomma soprattutto le persone anziane devono porre molta attenzione ai familiari che vivono con le persone anziane. Ma quali sono le altre cause che possono portare? Le altre cause sono appunto derivanti dalle malattie croniche, dalla polifarmacologia, cioè dal fatto che il paziente anziano spesso prende più farmaci e questi possono interferire con l'assorbimento e l'utilizzazione di nutrienti e diciamo anche la scarsa attenzione che si ha alla nutrizione proprio in questa età per cui spesso ci si accontenta di alimenti magari a poco valore nutrizionale e questo lentamente può portare il soggetto anziano a malnutrizione. Ricordiamo anche che il movimento aiuta ad assimilare i nutrienti che noi introduciamo con l'alimentazione. Allora iniziamo con i consigli pratici, allora come si può evitare tutto questo? Che consigli possiamo dare? Qual è il fabbisogno anche giornaliero di calorie? Sì, diciamo che in linea di massima i consigli derivano dal calcolare l'introito di calorie, di proteine, di acqua, che sono gli elementi nutrizionali essenziali sul peso corporeo. Quindi l'importanza di pesarsi e di, soprattutto se ci si rivolge ad un nutrizionista clinico, quello di indicare l'apporto in base al peso corporeo. Ecco, stiamo leggendo infatti professore, sono 20-25 calorie al giorno per chilo corporeo immagino. Che almeno 20-25 calorie al giorno di calorie totali, di proteine almeno un grammo, un grammo e mezzo a seconda delle necessità, se c'è uno stato di malattia, se si vuole fare riabilitazione, è importante assicurare questo apporto di proteine e anche, soprattutto in questo periodo, assicurare un buon apporto di acqua, quindi almeno 25-30 millilitri per peso, per chilo di peso corporeo al giorno, perché l'acqua è un altro dei nutrienti importanti che deve essere assicurato nello stato di buona nutrizione dell'anziano. Allora, il regime alimentare dell'anziano, come deve essere composto? Parliamo del fabbisogno proprio nutrizionale dell'anziano, insomma, quanti carboidrati, quanti proteine, quanti grassi? Diciamo che la dieta in generale, un po' per tutti, deve garantire un equilibrato apporto di tutti i principali nutrienti, perché cedere nella somministrazione di un nutriente rispetto ad un altro porta degli squilibri e la fisiologia dell'organismo poi deve mettere, diciamo, tutti i meccanismi, in atto dei meccanismi per sopperire a queste mancanze. Quindi una dieta equilibrata, diciamo, che deve comprendere almeno il 50% di carboidrati, il 30% circa di grassi e almeno il 20% di proteine. Non dimentichiamo che anche apporti di acqua sono importanti, quindi vanno assicurati almeno un litro e mezzo, due litri di acqua al giorno. Allora, iniziamo dai mattoni del nostro, le proteine, l'importanza delle proteine. Come fare ad incrementare questo apporto proteico che molto spesso le persone anziane non mangiano proprio? E evitano probabilmente perché magari non va più di cucinare, non va più di mangiare la carne, insomma, come diceva lei, probabilmente hanno anche problemi di dentizione, allora la masticazione non c'è più e non va neanche più di mangiare. Allora, come fare per incrementare l'apporto proteico? Diciamo che nell'anziano appunto ci sono cause esterne per cui si introducono meno alimenti proteici, ma anche cause interne, cioè un deficit metabolico di sintesi delle proteine. L'anziano deve raggiungere una certa quantità di proteine per pasto per poter far scattare la sintesi proteica. E quindi l'importanza di garantire, ad esempio, nei tre pasti principali dell'anziano, una quota proteica adeguata a far sintetizzare, ad essere poi utilizzata. Allora, andiamo a fare la spesa, andiamo al supermercato. Nel carrello della spesa, quali sono gli alimenti che contengono di più le proteine? Insomma, adesso magari fra un po' usciranno le nostre amiche che ci sono seguendo da casa. E allora, che cosa devono mettere all'interno del carrello? Innanzitutto, a parte la spesa che deve appunto comprendere, carne, uova, pesce, anche formaggi, cioè sono tutti gli alimenti a maggior contenuto proteico, un consiglio è quello, per esempio, nell'anziano, soprattutto d'estate, di iniziare dal secondo piatto, in modo tale che venga comunque garantito l'apporto proteico, che in genere appunto è costituito da carne, pesce, uova, eccetera, oppure fare il piatto unico, cioè mettere tutti questi alimenti insieme alla pasta in modo tale da garantire comunque l'apporto proteico. Ci sono proteine, ci sono alimenti che contengono più proteine, quindi possono essere appunto la carne, però pensiamo che ad esempio 100 grammi di carne contengono 33 grammi di proteine, quindi se andiamo a fare il calcolo delle proteine giornaliere, dobbiamo tenere presente l'apporto di proteine contenuto nell'alimento che poi diminuisce con la conservazione, con la cottura, quindi il calcolo andrebbe fatto sul reale apporto di proteine che quell'alimento contiene. Tante volte però, mi sto pensando alle persone anziane, non hanno voglia, come ho detto prima, di mangiare, soprattutto la sera, magari arriva un po' anche di depressione, magari sono soli, non va neanche più di cucinare. Allora, a volte l'alimentazione non basta più. Parliamo dei supplementi nutrizionali. Ci sono dei prodotti che possono aiutare a supplire questa carenza nutrizionale che non viene più dall'alimentazione, professore? Certo, innanzitutto bisogna privilegiare quegli alimenti che appunto contengono delle proteine a rapido assorbimento, a più facile assorbimento, come può essere il latte, il siero del latte. E poi, se nel calcolo giornaliero la quantità di proteine da assicurare all'organismo non viene soddisfatta, si possono integrare con dei supplementi nutrizionali orali, che possono essere iperproteici, possono essere sotto forma di polvere, sotto forma liquida, o se ci si hanno problemi anche di deglutizione sotto forma di budino. Quindi abbiamo a disposizione una serie di preparazioni che ci assicurano un alto contenuto di proteine da poter distribuire a seconda dei gusti e della necessità dell'individuo. È sempre il medico specialista, il medico di famiglia che deve prescrivere questi supplementi nutrizionali? Perché, come saprà il professore, quando uno va in farmacia oppure addirittura al supermercato si trovano questi prodotti, questi supplementi, questi integratori. Allora, è sempre bene parlarne con il medico? Il consiglio è sì, assolutamente sì, perché soprattutto nell'anziano che prende farmaci, che può avere patologie croniche come un'insufficienza renale, l'uso di integratori va personalizzato. Quindi, a parte i primi giorni in cui uno può utilizzare il supplemento nutrizionale orale, poi, se deve essere una terapia a lungo termine, è bene rivolgersi al nutrizionista clinico, che è quello che può prescrivere la terapia nutrizionale, anche perché il prodotto va dato spiegando i benefici, perché spesso l'anziano lo prende per due o tre giorni e poi lo abbandona, mentre va spiegato proprio la necessità, quasi fosse una terapia farmacologica, e quindi la necessità di prenderlo con costanza, perché poi gli effetti della terapia nutrizionale non si hanno a breve termine, ma richiedono almeno un tempo di 15-30 giorni. Allora, diamo i consigli proprio per stare in salute, soprattutto per gli anziani che ci stanno seguendo in questo momento da casa. Sì, allora, i consigli in generale sono, comunque anche d'estate, garantire un minimo di attività fisica. In assoluto, preferire prodotti di stagione e prodotti buoni, anche perché c'è differenza tra contenuto nutrizionale, dello stesso prodotto, diciamo di qualità rispetto ad un prodotto di scarsa qualità, perché contiene meno nutrienti. Bere acqua, anche al di fuori dei pasti, apportare una porzione di frutta o di verdura, qui vedete con vari colori, quindi anche diversificare i colori della frutta e della verdura, per lo meno nei tre pasti principali e, diciamo, non... Limitare gli alcolici e il caffè, stiamo leggendo, questo è importante? Certo, perché la tendenza di idratarsi con sostanze diverse dall'acqua può avere degli effetti anche collaterali, per esempio una diuresi maggiore, quindi già in un anziano che per esempio fa uso di diuretici, dovremmo aumentare ulteriormente l'apporto di idrico, perché queste bevande poi possono, anche le bevande zuccherine, possono comunque avere altre sostanze che possono interferire con la normale fisiologia, funzionamento dell'organismo. Grazie, grazie professor Paolo Orlandoni, responsabile della nutrizione geriatrica, il studente Stili di Ancona, grazie davvero per questi consigli. I corretti stili di vita sono importanti in tutte le fasi della crescita dell'organismo, ma in particolare nell'anziano. Per garantire un adeguato funzionamento dell'organismo è importante sia garantire il movimento che un adeguato apporto nutrizionale. L'organismo anziano necessita di tutti i fabbisogni, gli apporti nutritivi, che sono proteine, grassi, zuccheri, ma anche vitamine, sali minerali e acqua. Tra questi nutrienti è particolarmente importante l'apporto di proteine, perché garantisce la sintesi della massa muscolare e quindi garantisce il movimento, l'attività fisica anche nell'età avanzata, che è importante per ritardare l'invecchiamento di organi e di apparati, e quindi migliorare la qualità di vita nell'anziano. Le proteine sono contenute nel latte, nella carne, nei formaggi, nelle uova, nel pesce, e questi alimenti vanno assicurati durante la giornata in maniera proporzionata, per garantire appunto l'aggiusto apporto di proteine. Le proteine possono essere di origine animale e contenere amminoacidi essenziali, che sono quelli più indicati per garantire nell'anziano la sintesi proteica. Alle proteine vanno assicurate anche l'apporto di vitamine e di sali minerali, che possono essere garantite con un'adeguata somministrazione di frutta e di verdura.